Buongiorno e ben trovati in questa edizione di mattino 6 e giovedì 10 agosto 2017. Noi siamo pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali, le prime, le principali testate nazionali ma anche per rivedere alcuni dei servizi confezionati ieri dalla redazione del TG6. Iniziamo la nostra rassegna stampa come sempre con le prime pagine delle testate locali partendo dal centro dell'edizione di Pescara. Vi dico subito che il titolo d'apertura sarà il medesimo per tutte le edizioni, ovvero il seguente strage di sangue, 5 morti in un giorno, tra le vittime un operaio di elice travolto da un tir in corsia d'emergenza sulla A24. E poi leggiamo sotto la testata pubblicità sessista a Campli scoppia il caso alla sagra donne paragonate alla porchetta. Questa qui è la brochure incriminata appunto per della pubblicità sessista. Scendiamo al centro della pagina e vediamo la fotonotizia, anche questa comune ha tutte le edizioni del centro. Così sono spariti i mezzi antincendio, elicotteri, autobotti e jeep. Ecco cosa ha perso l'Abruzzo anche per la soppressione della forestale. Il tutto nell'inchiesta del centro dopo il rogo che ha devastato il Gran Sasso. Di spalla leggiamo il caso internazionale, grosso bloccato in Croazia, paga la multa e torna a casa. In basso alcuni richiami sempre di spalla. A Pescara il piano traffico sarà giudicato dai cittadini e poi a penne appello per il pronto soccorso. In basso ancora possiamo leggere paura. in Francia si lancia in auto contro i militari, antiterrorismo. Alta tensione Corea del Nord, stop di trampa ai piani atomici. Poi semestrale popolare di Bari, accordo blinda, 500 volontari. In basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, estate, la stagione delle false riletture. Andiamo avanti e vediamo la prima pagina dell'edizione di Teramo. Ovviamente il titolo d'apertura resta il medesimo. È a Villa Rosa e Mosciano, medico asle, pensionato, travolti e uccisi da due auto. Poi ancora sotto la testata, star della musica, Ron Ruggero e Caposella, l'estate abruzzese. si accende. I richiami di spalla. Siamo ad Alba Adriatica, requisite dalla polizia, 250 biciclette rubate. Poi in basso a Teramo aggredirono gli Stuart, Daspo a 6 Ultra. A Campli, sagra sessista, l'abbiamo visto, scoppio il caso della porchetta. E poi ancora andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. E in particolare tra le cinque vittime di questo mercoledì nero, a Miglianico, vigile del fuoco, si schianta in moto contro un'auto. Ed è grave. E poi ancora i richiami di spalla a Chieti, sindaci, fronte del Noal Business dei Migranti. E poi ad Atessa, sciopero Sevel per le ferie spezzettate, a Vasto, sosta selvaggia nella riserva di Motta Grossa. Vediamo ora la prima pagina dell'edizione di L'Aquila. A Carsori, sulla 24, perdono la vita la coppia paladina dei diritti civili ed un operaio. E poi di spalla all'Aquila, Università, Rettorato e Facoltà, tornano in centro. In taglio medio, ad Avezzano, minaccia il barista con un'ascia. Eccola qui, l'ascia incriminata. E poi a Sulmona, Nardella della Will, difendiamo la città dalle auto. E adesso la prima pagina del messaggero Abruzzo. Il titolo d'apertura, l'abbiamo già visto sul centro, anche il messaggero decide di aprire così. Mercoledì, nero, quattro morti sulle strade. Due colleghi originari della Marsica speronati in un'auto da mezzi sull'A24 durante l'emergenza Roghi. A Villa Rosa, medico si schianta in moto. Operario di Montesimano falciato mentre sistema la segnaletica. E poi sotto la testata, ritorni Renzo Arbore a Francavilla, questione d'amore. Lega Pro, Teramo, stangata per i tifosi violenti. E per la Serie B, Pescara oggi testa Pineto e l'ex pomante. L'ex capitano Marco Pomante studia da mister. In stand-by la trattativa per Ben Ali alla Sampdoria. Pepe diventa talent scout, non sarà il club manager del Delfino. Vediamo qui la coppia che è deceduta ieri nello schianto nei pressi del casello di Carsoli della A24. i colleghi erano in missione, la CNA in lutto Guido e Gisella. Vite dedicate al lavoro. Di spalla, ecco qui, Bambi preso e decapitato su una pietra senza un perché. Esecuzione di un cucciolo di capriolo punito, forse per aver mangiato mais in un campo. In taglio medio, barca pescarese in Croazia. Sequestro, lampo, solo una raffica di multe per il Nausicaa accusato di pescare in acque straniere. E poi in basso, all'Aquila, i furbetti in un film. Avanti con la prima pagina della città. Ecco il titolo d'apertura. Medico travolto e ucciso in moto. Villa Rosa pensionato travolge la Guzzi di Gianni di Febbo, 62enne Giuliese, dirigente del distretto sanitario di base di Roseto. Poi ancora sotto la testata, Teramo in Piazzetta del Sole, aggredita con un pugno da uno sconosciuto. Tortoreto in Manacara. Dopo la vittoria arriva la Beffa. E poi incendi estivi, fiamme vicine alle case a Valle Castellana. La fotonotizia al centro. Mano pesante, dasplo pluriennali per l'aggressione agli steward per alcuni tifosi del Teramo. Lutto a Castellalto. È morto Alessandro Bosica, mastro porchettaio di Villa Zaccheo. In basso a Giulianova, illuminazione lungomare fuori da Paride. Poi le strisce blu aumenteranno ancora. Roseto, il sindaco di Girolamo, scelta irreversibile. Poi gli appuntamenti estivi. Anzi c'è ancora questo fatto di cronaca che evidenziamo. Servapiana, agricoltore investito, muore in ospedale. E poi per gli eventi estivi, notte azzurra. Alex Britti sul palco di Tottea di Crognaleto. Il 20 agosto, Anna Falchi, madrina del Carnevale del Mare ad Alba Adriatica. Possiamo lasciare i quotidiani locali. Ci torneremo tra poco. Ora andiamo a dare il nostro consueto sguardo alle principali testate nazionali. Vedendo le prime pagine e iniziando dal Corriere della Sera. Ecco qui l'apertura. Far West in Puglia, uccisi in strada nella faida di mafia. Quattro vittime, due testimoni inseguiti e colpiti. Poi sotto la testata l'intervista ad Arrigo Sacchi. Il campionato sarà una sfida a due tra Juventus e Napoli, dice l'ex CT azzurro. Poi la fotonotizia che percorre gran parte della prima pagina del Corriere della Sera. Attacco terroristico ai soldati in Francia. L'auto sui militari. Fermato un algerino. E poi c'è l'editoriale di Franco Venturini. Mosse inaccettabili l'Europa e il coltello di Erdogan. In taglio medio, questione migranti. Sbarchi dimezzati a luglio del Rio. Intesa con Minniti dopo il nuovo codice. Calo ad agosto. Il calo ad agosto è del 76%. Andiamo avanti con la prima pagina di Repubblica. Ecco l'apertura. Niente soccorsi. Il papà muore. Troppe falle nel nuovo 112. Un'inchiesta della Procura dopo la denuncia della figlia su Repubblica. E poi sotto la testata la strage del Gargano. Dove la mafia dimenticata uccide gli innocenti. Quattro vittime. I killer inseguono e ammazzano i contadini che hanno visto l'agguato. E poi ancora i personaggi. Il risico di guerra tra Kim il folle e Trump stranamore. Andiamo in basso. Ecco qui perché l'uomo non può mostrare le gambe d'estate. I bermuda vietati nei ristoranti. E poi il cranio dell'antenato più antico. Ecco come eravamo. 13 milioni di anni fa. Eccolo qui il cranio in questione. Davvero molto piccolo. Avanti ancora con il messaggero. Ecco qui l'apertura. Migranti stretta sui permessi. Linea dura del Viminale. Respinte due richieste di asilo su tre. Velocizzate le procedure. Boom di ingressi illegali in Spagna. Più 230% in un mese. L'ipotesi di una nuova rotta. E poi sotto la testata per lo sport. Il contratto per il CT Ventura. Pieni poteri e rinnovo al 2020 Italia Modello Club. L'editoriale di Osvaldo Paolini. Quei dieci anni dopo la crisi. Una lezione per le banche. Il caso Subprime. Scendiamo in taglio medio. Ecco qui la fotonotizia. Aguato affoggia. Uccisi anche i testimoni. Freddati un boss. L'autista. Due contadini al lavoro. Nei campi. Sempre in taglio medio. Gli appalti. Inail nel mirino di Anac. Denuncia in procura. Trovate irregolarità in contratti per forniture informatiche sanitarie. dal valore di 44 milioni di euro. E poi in Basso. In Belgio. E in Olanda. Uova all'insetticida. Controlli rafforzati sul mercato italiano. Andiamo avanti. Ecco il fatto quotidiano. Con il titolo d'apertura. Migranti. Sette giravolte di Renzi. Matteo cambia idea ogni giorno. Il governo ha due linee opposte. Viminale e Del Rio. Bestia. Chi non accoglie. Aiutiamoli a casa loro. Ora è contro Minniti. In basso. O meglio. Siamo in taglio medio della prima pagina del fatto quotidiano. Ora il prete quasi nobele indagato come le ONG. Mussai, Zerai. Io salvo solo le vite. Tutto questo a Trapani. Scendiamo ancora. Dati i stati. Il decreto vaccini già funziona. Boom delle case farmaceutiche. La produzione industriale cresce dell'1,1% a giugno. Il settore del 18,5%. E poi ancora ritorsioni nel duello. Trump-Kim. Corea sfida atomica tra fuoco e furia. E missili su Guam. Procediamo con la prima pagina del tempo. Questa è l'apertura. La casta Laura. Si gode il sole nella spiaggia dei Presidenti. Privilegi balneari. Li definisce il tempo per la tintarella della Boldrini. Una zona riservata nella tenuta di Castel Porziano. E poi dopo le denunce del tempo, vince il quotidiano, vince il tempo. Carabinieri a Castel Fusano. In basso, sempre fatti legati al capitale, tombe profanate, dimenticate, comunità ebraica contro raggi, nessun aiuto dal Campidoglio per le 70 sepolture distrutte al verano. Avanti con la stampa. Sanità in agosto. Un letto su tre chiuso per ferie. Assenti metà di medici e infermieri. E per chi resta, turni massacranti. Radiografia dell'emergenza da nord a sud. E poi la fotonotizia. La Silicon Valley si scopre sessista. Cresce la protesta contro il macismo dopo il caso avvenuto a Google. E poi di spalla, Trump alla Nord Corea. Basta minaccia, il regime finirà. La Cina, stop alle provocazioni. In basso, quanto avvenuto ieri nel Gargano, la battaglia di Foggia. Freddati testimoni, quattro morti nella guerra fra clan, uccisi boss e cognato. Inseguiti due contadini lì per caso. E poi in basso, leggiamo qui Torino, shock. Stai con un immigrato. Tu qui non lavori. Negato lì impiega una commessa fidanzata con un africano. Meglio il mostro di Firenze. Avanti con il secolo XIX. Vaccini in Liguria. Certificati a domicilio. Per iscriversi a nidi e materne. Ne basterà la prenotazione ASL. In arrivo 50.000 lettere. Sanità, la mappa dell'Italia. Chiusa per ferie. E poi ancora, libero. Ecco il titolo d'apertura. Uomini e donne, le diversità. Secondo le teorie dell'Università di Cambridge. Ecco lo studio sulle differenze dei cervelli dei due sessi. Costato il posto all'ingegnere di Google accusato di misoginia. L'abbiamo letto. Non contiene nulla di politicamente scorretto, ma sostiene che per certi lavori è meglio lui e per altri è meglio lei. E poi in basso, al centro della pagina, Renzi ha più lettori che voti. Il libro dell'ex premier è un successo. Andiamo avanti con la prima pagina del mattino. Al Fano, non ci sono patti chiusi in Sicilia. Il leader punta a un'intesa nazionale con il PD, che comprende il premio di coalizione. I centristi ago della bilancia tra Berlusconi e Renzi, nella sfida ai favoriti Grillini, Casini, sì, all'accordo con i Democrat. E poi gli spalla il test con l'Espagnolo. Napoli al San Paolo. Prova generale, non si può sbagliare. La prima pagina del sole 24 ore. Industria si rafforza la ripresa. Giugno più 5,3%. La spinta da auto più 19,9%. E farmaceutica più 18,5%. Primi effetti del piano industriale 4,0. Le valore del ministro Calenda. Crescita sempre più strutturale. Intaglio medio, effetto Nord Corea, calano le borse, rialzo dei beni rifugio. Milano meno 0,9%. Franco-Svizzero record, tensioni sui mercati dopo una lunga fase positiva. La prima pagina del manifesto. Angelo è demone. È l'uomo più desiderato del momento. Lago della bilancia del voto siciliano e nazionale. Il ministro di Gentiloni, Mangiolino Alfano, tratta con Berlusconi. Il PD pende dalle sue labbra per il suo portavuoti dell'isola Castiglione. L'accordo con Renzi è fatto anche per la coalizione di Senato. E poi sotto la testata, l'inchiesta ONG indagato. Don Zerai intervista al sacerdote che ha salvato centinaia di profughi. E poi avanti con la prima pagina del giornale. l'inchiesta sugli scafisti. Indagato il prete amico della Boldrini. I PM lo accusano di aver favorito l'arrivo degli immigrati. E poi in taglio medio, patrimonio da 200 milioni. Vacchi pignorato, ma non resta in mutande. Balla su un tesoro. Avanti ancora con la prima pagina dell'avvenire. Centrafrica, la strage silenziosa di cristiani. Sgozzati 50 donne e bimbi. Il vescovo aiutateci a colpire a gambo i ribelli islamisti seleca. L'ONU si rischia il genocidio. Il dolore del Papa. E l'appello del presure di Bangassù. Avanti ancora. Stiamo per chiudere questo momento delle prime pagine nazionali. Lo facciamo con la prima pagina della verità. Ecco il titolo d'apertura. Chi dà ai migranti i soldi per gli scafisti. Come fa gente poverissima a pagare migliaia di euro per il viaggio? Chi non cade in mano alle racket ricorre al presidio umanitario. Un sistema premiato con il Nobel che sta rovinando migliaia di persone. E poi in taglio medio. Crisi pure per i bimbi. Boom di rinunce ai nidi. In aumento soprattutto al nord. Anche i casi di famiglie che non riescono a pagare la retta. Finiamo qui con la parte della rassegna. Dedicata ai titoli principali delle prime pagine delle testate nazionali. Torniamo su quelle locali. Lo facciamo attraverso le pagine interne del centro. Iniziamo da pagina 2 e 3. Ecco qui pagina 2. Roghi in alta quota. Spariti i mezzi antincendio. Autobotti dell'ex forestale. Ferme inutilizzabili. Mentre il gran sasso brucia. E poi ancora parla l'esperto. Gioia. La montagna va chiusa. In basso parco scatta l'indagine. Il caso in Parlamento. Ed è caccia alle responsabilità. Andiamo ora a pagina 3. bloccati in Croazia. Il diario di un sequestro odissea di 24 ore per i pescatori abruzzesi. Maxi multa prima del rilascio. Al Nausicaa è stata contestata la pesca in acque croate. Contestata dall'armatore. Poi Mimmo Grosso è stato processato e è dovuto pagare circa 4.000 euro. In basso autovelox. Gli autisti del governatore già assolti sei volte le altre sentenze per eccesso di velocità. Andiamo avanti. Siamo alle pagine della cronaca di Pescara e torniamo sul sequestro subito dall'armatore Mimmo Grosso e dalla sua Nausicaa. Ecco qui, grosso multato dai croati, ma sono vittima di un furto. Parla l'armatore pescarese decisivo l'intervento della diplomazia italiana. Sequestrato e liberato. E poi ancora leggiamo in basso. Mi hanno condannato a pagare 28.000 cune, ma hanno sbagliato tutto. Ci hanno lasciato andare solo quando abbiamo versato i soldi che ci sono stati prestati. D'Alfonso ha coinvolto il governo italiano e la diplomazia dopo aver saputo che il pescarese era stato bloccato dalla polizia croata a bordo del suo peschereccio. E poi ancora scomparsa al largo di Pescara il cadavere trovato in Friuli, la brasiliana che viaggiava sulla nave da crociera. Andiamo avanti e restiamo sempre nel pescarese, anche se il fatto è avvenuto nel Lazio, è avvenuto a Tivoli. Una tragedia, una delle tante che purtroppo ci sono state nella giornata di ieri. Tragedia a Tivoli, operaio muore travolto dal tir sulla A24. Si tratta di Cristian Ruggeri, aveva 31 anni, dipendente di una ditta angolana. Si era fermato col camion sulla corsia di emergenza. Ecco qui la vittima, il 31enne Cristian Ruggeri, che appunto, come leggiamo, lavorava per una ditta di Città Sant'Angelo. E c'è dolore a Elice e Arsita. La compagna Barbara è in attesa del secondo figlio. Avanti ancora, siamo a pagina 16 con i progetti per la nuova viabilità. Il piano traffico giudicato dai cittadini, il Comune annuncia la costituzione di una giuria pubblica per valutare le scelte su futuri sensi unici e aree pedonali. Ecco qui, in questa grafica, le strade più trafficate con i dati giornalieri medi. Avanti ancora, siamo alla politica. In basso leggiamo Teodoro, rinuncia a due assessorati rosa. Bocciata anche l'ultima offerta del PD, l'ex vice sindaco adesso riflette sull'addio al centro-sinistra. Avanti ancora, siamo a pagina 17. Comunità italo-canadese dona impianto per tumori. La macchina di brachiteramia offerta, l'ASL, consente la cura senza interventi. Le parole del manager dell'ASL, Pescara e Semancini. In questo modo si eviteranno sofferenze ai pazienti malati. Noi ieri eravamo presenti a questa consegna. Vediamo il servizio. Assessore Di Matteo, oggi questa importante iniziativa che si tiene in consiglio regionale, questo importante regalo che gli emigranti canadesi hanno fatto all'ASL di Pescara, all'ospedale Santo Spirizzo. Io sono felice di questa bellissima iniziativa perché si dona uno strumento, un macchinario utilissimo e molto tecnologicamente avanzato per la cura della brachiterapia e la cura dei tumori. Devo ringraziare sentitamente come assessore all'emigrazione due validi uomini che rappresentano la storia della nostra emigrazione. Uno è Mario Cortellucci, il gran priore dei Cavalieri di Malta, oltre a essere un grande imprenditore che è riuscito nella vita a realizzare delle grandi operatività. L'altro è Luciano Bentenuto ed è uno che svolge funzioni importantissime nell'ambito della sicurezza dei magistrati. Sono due grandi uomini e così come tanti altri, ma loro in modo particolare, tengono alto l'orgoglio di questa nostra regione. L'Abruzzo deve molto ai nostri emigrati, una riconoscenza, il sorriso, la capacità di essere disponibili sempre, accoglierli a ritenere uno dei nostri. Io su questa politica sono vent'anni che ci lavoro, sono molto coinvolto da queste attività che rappresentano il nostro mondo all'estero. Io sono felice che oggi è una grande dimostrazione dell'affetto dei nostri abruzzesi che stanno in Canada. Come è nata questa iniziativa? Per noi è la seconda volta perché abbiamo partecipato ai terremontati dell'Aquila tre anni fa. Una macchina già l'abbiamo dato tre anni fa all'Aquila. Allora abbiamo voluto rifare la stessa cosa per l'ospedale di Pescara che hanno accolto tanti terremontati, i vittimi che hanno fortunatamente un disastro. Ci sono 1.4 milioni italiani in Canada. Loro sono orgoglioso. Più orgoglioso perché io e il Presidente si trovi a essere un abruzzese di qui. Allora questo per me è stato un grande progetto, specialmente con la collaborazione dei Cavaliere di Malta. Sono fiero di essere qui e dire a tutta la popolazione qui in Abruzzo che non sarà mai solo. Restiamo sul centro. Un dado d'annunziamo per Piazza Salotto la proposta al comune dello scultore Pellegrini. Avanti sempre restando sulle pagine di Pescara. Gli armatori pescaresi, i signori della pesca in difficoltà, ma che ricchi, sono solo sacrifici. E poi le parole di Romeo Palestino. È dura far fronte alle restrizioni dell'Europa, alle spese per gasolio, strumentazione obbligatoria e ai canoni da pagare. Avanti ancora, Consiglio Comunale straordinario. Siamo a Francavilla. Sono qui i miei ricordi della guerra. Renzo Arbore riceve l'onorificenza e racconta aneddoti della sua vita. Per me è un dono essere cittadino di Francavilla a mare. Tutto attaccato tra virgolette. Poi ancora in basso il 19 e 20 agosto in Piazza Tirreno due appuntamenti con Motus per la notte della pizzica, sempre a Francavilla. E poi in basso a Cepagatti nessun profugo a Villanova. La sindaca Rapattoni dice di essere stata tranquillizzata dal prefetto. Avanti ancora, siamo alle pagine di Montesilvano. Montesilvano è in rete con le terre del piacere. La giunta a Maragno sottoscrive un'intesa per tre anni con l'agenzia regionale che si avvale della collaborazione di diversi comuni teatini, pescaresi e terramani. E poi in taglio medio a Città Sant'Angelo rischiamo di pagare l'ecotassa differenziata al palo. Protesta l'opposizione in consiglio. E ora nell'area Vestina. Il nostro ospedale ha assoluto bisogno del pronto soccorso. Appenne il comitato porta il caso al tavolo della conferenza Stato-Regione che sarà convocata dopo il 20 agosto. E questo è un momento di una delle precedenti manifestazioni a difesa del presidio del San Massimo di Penne. E a Cappelle invece nascono antenne come funghi. Il comune non va in ferie. Consiglio il 16 agosto alle 8.30 del mattino. Avanti ancora, siamo alla pagina di Chieti. Ancora la questione migranti, profughi e business. Vigiliamo sulla legalità. Il centro-destra un mese di iniziative per avere delle risposte. Sono circa 4.000 gli stranieri in Abruzzo. Il giro d'affare è di oltre 43 milioni di euro all'anno. La proposta è alzare al massimo le tasse locali per chi si occupa della loro permanenza sul territorio. In basso, Sevel, poche ferie collettive. E sciopero, fiom CGL e USB contrarie al periodo di riposo spezzettato. La fabbrica sia a misura Duomo, dicono. Pagina, ora Aquilana. E siamo all'incidente gravissimo. La tragedia avvenuta a Carsoli. In autostrada muore la coppia paladina dei diritti civili. Petrocchi e Venditti avevano 62 anni. Fatale lo schianto contro un tir. Facevano parte di associazioni di Marsica e Lazio. Ecco qui Guido Petrocchi e la compagna Gisella Venditti. In taglio medio minaccia il barista con un'ascia. Paura in via Roma. L'uomo inseguito e denunciato. In auto spunta una seconda accetta. Poi ad Avezzano visita in municipio il nuovo comandante della finanza. Il capitano Alessio Grillo prende il posto, come leggiamo, di Giovanni Antonino Marra. Avanti ancora. In basso furbetti del cartellino in cinque nei guai. Avviso di conclusione di indagini nei confronti dei dipendenti dell'università. Indagati per assenteismo. Andiamo a chiudere con la pagina di Teramo del centro. Questa prima parte di mattino 6. Due tragedie sulle strade. Autocontromoto. Muore medico Asl. Incidente a Villa Rosa di Febbo. 62enne originario di Bellante. Andava al lavoro al distretto di Giulianova. Fatale una emorragia interna. E' deceduto. L'Albal Mazzini di Teramo non ce la fa l'anziano investito a Silvi Alta Giovanni Core. Pensionato di Mosciano. E poi in taglio medio andiamo a vedere Sagra Sessista. Scoppia il caso della porchetta di Campi. Abbiamo già visto in prima pagina la pubblicità contestata. Noi ci fermiamo qui con la prima parte di mattino 6. Spazio alle previsioni del tempo. Poi alla pubblicità. E poi rientriamo con il messaggero, la città, lo sport e altri servizi. Di nuovo buongiorno alla seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo e parliamo di sanità. Pronto soccorso in tilt. Le parole dell'assessore regionale Paolucci. Le Asl non hanno funzionato. Troppi gli accessi inappropriati. Basta vedere domenica a Pescara. Mancano ancora i servizi filtro che avevamo detto di predisporre. Poi in taglio medio leggiamo bilanci ancora zavorrati dal debito monstre del 2006. Ben 2 miliardi di euro. La pagina di Pescara. Barca pescarese fermata dai croati. Avventura nell'isola di Vis per il comandante Mimmo Grosso e l'equipaggio del Nausicaa accusati di pesca in acque straniere. La vicenda è risolta in 24 ore dopo l'intervento del console e un processo lampo. Gli italiani respingono le contestazioni. Il peschereccio della flotta cittadina ha scortato la stauta di Sant'Andrea durante l'ultima processione a mare. Poi ancora marittima scomparsa. La verità dal DNA riprende quota l'ipotesi che il corpo recuperato in mare il 2 luglio possa essere quello della cameriera della MSC Musica. Avanti ancora, siamo alla politica. Stop all'ostruzionismo esasperato. Una norma per arginare Teodoro. Alessandrini vuole riscrivere le regole per favorire intese sulle grandi scelte di sinnescare chi rema contro. Restiamo sempre a Pescara. L'Ater cerca 7 milioni per salvare 5 mila alloggi. 3 mila sono antecedenti il 1980 e necessitano di interventi urgenti. Ad aprile la richiesta d'aiuto di Basile è respinta dalla regione. Non ci sono soldi. Poi in basso la pena e il riscatto. 5 diplomati a San Donato. Per gli studenti detenuti la pergamena e una lettera della regina Elisabetta. In basso i balneatori domattina senza luce. Padovano mediatore con l'Enel. Proteste e iniziative preventive della categoria per evitare altri disagi dopo il blackout della notte bianca. La pagina successiva. Siamo a Francavilla. Ho amato Francavilla quanto i miei genitori. Ricordi e commozione per Renzo Arbore che ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Qui ho trascorso le mie vacanze e qui abbiamo festeggiato la fine della guerra in piazza Sant'Alfonso prima del Blue Bar. L'abbraccio con Duccio e i tanti amici. Andiamo a vedere la consegna ideale della cittadinanza onoraria di Francavilla al mare al grande Renzo Arbore. Una grande soddisfazione era una cittadinanza onoraria a Francavilla e un ritorno in gioventù visto che lei veniva qui maestro a passare le vacanze. Sì, in adolescenza proprio, quindi un ricordo bellissimo di Francavilla ma io poi sono tornato altre volte di nascorso perché venivo a vedere i luoghi dove avevo passato la mia infanzia. sono andato a Francavilla, poi sono andato a Lanciano, poi sono andato anche a Chieti. Adesso infatti vengo da lì e lì ci sono i luoghi dove io ho passato questi anni bellissimi e terribili che erano gli anni della guerra dove siamo stati anche bombardati. dove noi eravamo una famiglia di 35 persone perché c'erano tutti parenti, tutti ci spostavamo e ci siamo spostati in 35 da Francavilla a Lanciano prima in alberghi di fortuna e poi in Chieti dove siamo stati ospitati al circolo degli amici. I ricordi sono bellissimi, li ho raccontati in un mio libro che si chiama E se la vita fosse una jam session, perché la verità è quella. Abruzzo, terra accogliente. Abruzzo, terra accogliente. Abruzzo, terra accogliente e anche Molise. Lasciatevi vendere una parola per il Molise perché io pure sono appassionato dei abruzzesi e dei molisani. Lo sappiamo, un mio abruzzo, una volta l'ho scritto in un libro di Vittorio Sindoni, altro abruzzese, Romero Abruzzo e poi noi abbiamo le pecore, le cose, adesso mi manca Anduccio, dove sta Anduccio? Non è venuto ancora, arriverà in ritardo. L'ultima battuta, Francavilla, città che è cresciuta tanto negli ultimi anni. Certo, è quasi irriconoscibile per me, devi andare proprio a spulciare, perfino le piazzette che io mi ricordavo, grandi eccetera, sono piccole, circondate dagli edifici e tutta questa roba qua, certo, è diventata un bellissimo posto per passare le vacanze. Cosa si sente di dire al sindaco di Francavilla, Luciani? Grazie, perché certamente è un bel riconoscimento. Lo ringrazio anche a nome dei miei genitori che sarebbero stati felici. Sempre sul messaggero, Pecorino e Pecorini farindola celebra il suo formaggio con calici divine. Poi, tornando alla cronaca, tra volte ucciso da un tir sulla 24 vittima, un operaio di Montesilvano, Cristiano Ruggeri, lavorava per una ditta di Città Sant'Angelo specializzata in segnaletica. E ora le pagine dell'Aquila, Ateneo filmati, i furbetti del cartellino, spy cam e intercettazioni, rilevatori satellitari GPS per incastrare i presunti dipendenti assente isti. L'indagine è nata da un esperto, da un esposto anonimo inviato ai PM, sviluppata con tutte le più sofisticate tecnologie. Impiegati che timbravano e si dedicavano ad attività personali, posizioni molto differenziate. Poi in basso, Ponte Belvedere, sì, alla Perizia. E il terzo incarico per la sicurezza, il geologo Germani, dovrà pronunciarsi sulla stabilità dell'opera che ha rischiato la demolizione. Restiamo sempre a l'Aquila, nell'Aquilano. Il piromane ci riprova, ma i vigili del fuoco spengono subito il rogo. Ad assergi i pompieri con un'autocisterna appostati nei pressi, l'intervento immediato evita il dilagare di un altro incendio. Finalmente sotto controllo anche le fiamme che avanzavano verso Rigopiano. Poi in basso, pronta l'ordinanza anti-Boteillon, multe pesanti da 50 a 500 euro. Il provvedimento in vigore dal 23 agosto al 4 settembre. Avanti ancora, nella Marsica Schianto, morti due colleghi di lavoro. L'incidente durante il caos per gli incendi lungo la 24. La loro vecchia panda è stata tamponata da altri due mezzi. Guido Petrocchi, 63 anni di trasacco, e Gisella Venditti, entrambi funzionari della CNA, erano diretti a Roma. Proseguiamo con la pagina di Chieti. Le ronde dei sindaci di centrodestra sui rifugiati chietini. I primi cittadini guidati dal parlamentare Fabrizio Di Stefano annunciano controlli sulle strutture che ospitano mille stranieri, fenomeni anomali di accattonaggio, vendite abusive e persino prostituzione nelle località dell'accoglienza. Il nostro servizio è il servizio del Tg6. Controllare il flusso dei immigrati e la loro collocazione nei centri di accoglienza gestiti dalle cooperative. E' questo l'obiettivo principale della mobilitazione, organizzata nei mesi di agosto, proposta dal gruppo regionale di Forza Italia. Sono circa 4.000 gli immigrati attualmente accolti in Abruzzo, circa 1.000 per provincia. Un giro di affari troppo ampio, dicono gli azzurri, per non sospettare speculazioni. Circa 4 milioni di euro al mese, tanto costa il servizio di accoglienza, dice Fabrizio Di Stefano. Per questo occorre vigilare i suoi eventuali abusi. Chiediamo e crediamo che le istituzioni debbano garantire legalità. La legalità la devono garantire le amministrazioni locali e quindi i nostri sindaci si mobilitano. La legalità la deve garantire anche la prefettura e le istituzioni preposte a tutto quanto questo. Non è possibile che in un clima di questo genere ci sia chi, sulla difficoltà di alcuni, speculi e si arricchisca. Questo lo andremo a verificare e questo lo denunceremo. Nel fronteggiare questa emergenza in prima linea ci sono i sindaci, soprattutto in territori di frontiera come quello di San Salvo. Il primo cittadino, Tiziana Magnacca, si impegnerà nel progetto che prevede il controllo degli immigrati, dei loro spostamenti e attività per fermare il business che gira a discapito dei comuni. Non veniamo informati dei vari passaggi che ci sono dei migranti sul nostro territorio. A San Salvo erano arrivati 20 ragazzi del Bangladesh. Stamattina, grazie al comandante di Carabinieri, sono arrivati a 66 nel giro di 10 giorni, 66 più altri 14 che ne abbiamo, contate quanti già ce ne sono. Non avere nessuna certezza in ordine a chi sono, a quanti ne sono e dove stanno, chiaramente ci pone in difficoltà perché siamo consapevoli del fatto che queste persone vanno ad alimentare il mondo del mercato nero, il mercato nero del lavoro, il mercato nero della vendita delle merci contraffatte sulle nostre spiagge, sulle nostre strade. Da Forza Italia arriva anche una proposta, alzare la tassazione locale per chi si occupa di accoglienza, per restituire al territorio parte di ciò che lo Stato spende per i migrati. Siamo nell'area Frentana, a Palti una squadra per tre comuni, centrale unica di committenza per Lanciano, Ortona e Treglio in questi sette mesi già messe a gara opere pubbliche per 55 milioni, dicono Pupillo, Polidori e Berghella. Poi ancora due defibrillatori in dono al comune, per ricordare Roberta Smargiassi a Vasto, gesto commomente della famiglia della ragazza investita un anno fa dal 21enne. Poi ucciso dal marito di lei. Siamo alle pagine Terramane, studenti ad Alessandro e in attesa del nuovo MUSP. Non rappresenta la soluzione globale, però garantirebbe la funzionalità. Il tavolo con la protezione civile servirà per fare il quadro generale. Il sindaco Brucchi dice dalla Gammarana, un unico percorso, non possiamo aspettare oltre con tempi incerti. E poi di spalla per la cronaca, schiacciato dal trattore, l'agricoltore è morto, niente da fare per Giovanni Corre di 68 anni. La questore indaga su una donna picchiata in piazza. E poi in basso, troppi decibel, la chiusura per il Manacara di Tortoreto rischia di saltare l'esibizione di Bacchi. E poi ancora sulla costa, si schianta con la moto, muore medico. L'incidente è avvenuto ieri mattina sull'Adriatica. La vittima è Gianni Di Febo, aveva 62 anni, inutili i soccorsi. Prestava la sua attività presso il distretto di base di Roseto. Sembrava potesse farcela poi il decesso al Mazzini di Teramo. Passiamo ora alla città, andiamo a vedere dunque le pagine del quotidiano della provincia di Teramo, partendo da pagina 3, dove in questo caso si parla di Regione Abruzzo. Dopo incendi e siccità, la caccia va limitata. Il WWF invia una lettera alla Regione per escludere l'apertura anticipata e tutelare gli animali. Anche ieri i vigili e forze dell'ordine sono stati al lavoro per domare il rogo sopra Rigopiano. Il rischio, la distruzione di vaste aree verdi porterà un numero più elevato di cacciatori a concentrarsi sulle restanti aree aperte alla caccia. Ora la cronaca, lo abbiamo appena visto. Medico Giuliesi è travolto e ucciso da un pensionato. Gianni Di Febo, 62 anni, dirigente del distretto sanitario di Roseto, ieri mattina era alla guida della sua Guzzi. Il pensionato al volante di una Opel Ascona si sarebbe immesso sulla stradale senza accorgersi del motociclista. Avanti ancora, popolare di Bari, numeri in crescita nonostante Atlante. Nella semestrale aumentano attivo totale raccolta, impieghi stabili, perdita causata dal salvataggio delle banche venete. E poi torniamo alla cronaca, aggredita con un pugno da uno sconosciuto sessantenne a passeggio col cane colpita da uno squilibrato alla piazzetta del Sole a Teramo. Indaga la polizia. Alcuni anni fa un giovane terramano con un bomber nero divenne lo spauracchio delle signore in centro. Dunque ci sono dei precedenti. Iniziata la strage di Ratti alla villa comunale di Teramo, l'intervento della Team, del vigile ecologico e di Soccil Verde sta dando frutti sperati contro l'invasione di topi. Il comune rinnova l'invito ai cittadini a non dare da mangiare gli animali del lago e a segnalare la presenza di topi per un eventuale nuovo intervento. Le notizie dalla provincia. Il vero volontario non deve essere pagato. Il conapo di Teramo interviene sul caso di Ragusa. Serve un decreto per separarli dai permanenti senza entrare nel merito della vicenda. Ancora al vaglio della magistratura. Ci auguriamo che si faccia la massima chiarezza in tempi rapidi e che i responsabili, se riconosciuti e colpevoli dei fatti gravissimi di cui sono accusati, vengano puniti in modo esemplare. Proseguiamo e siamo a pagina 9 con il Manacara di Tortoreto che fa ancora parlare di sé. Manacara dopo la vittoria arriva la Beffa, nuova ordinanza di sospensione della musica per 15 giorni a causa di due sforamenti degli orari. Avanti ancora, siamo alle notizie da Giulianova. Lungomare Ovest escluso da Paride. Il progetto per l'illuminazione non riguarderà tutto il territorio giugliese. Verranno sostituiti 4.600 punti luce sui 6.500 esistenti, pari al 67% dei lampioni giugliesi. Ora a Roseto ancora la questione parcheggi. Altre strisce blu nel futuro di Roseto. Il sindaco, una scelta irreversibile che favorisce tutti e che sarà estesa. Mozione respinta, niente da fare per la mozione di Casa Civica sulla sosta gentile e sugli sconti per i residenti. Proseguiamo e arriviamo alla pagina degli eventi. Ecco qui, Notte Azzurra. Alex Britti sul palco di Totea. Si esibirà anche il comico Stellina in programma. Giochi per bambini, spettacoli pirotecnici e balli fino al mattino. Appuntamento fisso. Oramai da anni la Notte Azzurra riesce a portare nei Monti della Laga il meglio della canzone italiana. E poi ancora la sfilata. Alba Adriatica fa festa col Carnevale del Mare. Altro evento che ormai è un classico estivo sarà Anna Falchi, la madrina della manifestazione. I cari allegorici percorreranno tutto il lungomare. L'appuntamento è per domenica 20 agosto. Ad Alba arriveranno gruppi anche da fuori regione. Apriranno il corteo ragazzi armati di smartphone per proclamare la lotta contro il cyberbullismo. Ed ora lo sport. Parliamo ovviamente sulla città del Teramo. Varas, qualità sudamericana per il Teramo. Il nuovo centrocampista biancorosso si presenta sabato alle 18 la Coppa Italia contro il Fondi. Botteghini aperti in vista della sfida di Coppa. Saranno aperti nel giorno della partita i botteghini. Poi ancora Coppa e calendario. L'appuntamento con la competizione nazionale per sabato pomeriggio contro la squadra laziale. Domani invece si terrà il sorteggio dei calendari di Serie C all'Exaurum di Pescara. Varas che è arrivato in settimana. Martedì il primo allenamento e anche la presentazione. Ascoltiamo le parole di questo centrocampista di origini ecuadoregne. Sì, sì, è molto strano perché non me lo sarei mai aspettato. Soprattutto visto che siamo ritrovati a difendere la categoria in due partite. Purtroppo è andata male nei miei confronti perché comunque ero nella squadra avversaria. Però adesso comunque c'è stato questo interessamento da parte della società fortemente nei miei confronti e mi ha convinto subito la scelta. Tecnicamente sono un giocatore rapido, veloce. Comunque il mio ruolo è fare la mezzalla, destro, sinistra, indifferente. Però diciamo che quest'anno mi sono adattato a fare altri ruoli. Quindi starà a decidere al mister dove... Quindi anche a centrocampo? Anche a centrocampo a due. Mi è capitato di fare pure il terzino e pure anche l'esterno alto. Senti, sei originario dell'Equador? Esatto. No, sentiamo un bel italiano. Sì, sono di Brescia, Darfo Buario. Sono originario, ma tu sei nato in Italia? Sì, sì, sì. No, non sono nato in Italia. Sono nato in Ecuador e all'età di 10 anni sono venuto in Italia. Sicuramente fare sia a livello di squadra che personale aspetto. Penso che sia anche una questione d'obbligo a fare un campionato molto più competitivo rispetto all'anno scorso. Puntare a fare qualcos'altro. Non arrivare a fine stagione e a giocarci il campionato per non retrocedere. La società comunque vuole fare un campionato di altro vertice, puntare almeno i play-off. Quindi vediamo. Comunque dobbiamo partire con i piedi per terra e piano piano fare i punti. Abbiamo introdotto lo sport. Allora vedete alle mie spalle la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Vediamo le tre prime pagine dei quotidiani principali nazionali sportivi. Juve, Emre, Chan o Strotman. E poi ancora in questa mega apertura di pagina. Vediamo sul fronte Inter. Chic e Abile. E poi in basso, ma anche qui in grande evidenza, Pesce, Mbappé sceglie Neymar. I parigini spendono altri 180 milioni e pronto un Dream Team. E poi di spalla, ecco qui, diavolo di una VAR. Il Milan si arrende a Betis e Moviola. Andre Silva gol, Bonucci capitano. L'arbitro Doveri, corretto, due volte. E il Siviglia, Betis, fa cadere i rossonieri 2-1. Biglia starà fuori almeno 15 giorni. E poi il rinnovo, il prolungamento del contratto per il CT della Nazionale Ventura. Ventura 2020 faremo un bel mondiale. Contratto prolungato con aumento. Con lui in un anno già 11 esordienti. Vediamo la prima del Corriere dello Sport. Milan, febbre, Ibra. Il ritorno a Milano non è utopia. Lo studio i tempi di recupero di Zlatan. Il sogno è quello di affiancarlo a Kalinic. Rossonieri 1-2 con il Betis. Ma prende corpo un'idea che entusiasma i tifosi. E poi, sotto la testata, svolta azzurra. Ventura, contratto prolungato. Guiderà l'Italia fino al 2020. Una firma per dargli più potere. La prima pagina di Tutto Sport con le torinesi in evidenza. Ovviamente, da un lato la Juventus con Dybala sulle orme di Alex. A Paolo la numero 10 di Del Piero. L'argentino entusiasta. Detto a Marotta, voglio essere il leader della Juve. D'altro canto, Rincon, che va dall'altra parte del Po. Rincon e del Toro. Ceduto benassi alla Fiorentina. I Granata definiscono con la Juve il prestito del venezuelano con diritto di riscatto. E poi, in basso, Milan Capitan Bonucci. Stecca la prima. Torniamo sui quotidiani locali. Vedendo il centro, parliamo di Pescara, in particolare di Mercato. Ternana su Fornasier. Pepe lascia il Pescara. Gli Umbri sfidano Lascoli per il difensore. L'ex club manager farà il procuratore. Sabato, Coppa Italia contro il Brescia, che potrebbe sostituire Boscaglia con Oddo. E questa sera, alle 20.45, Pescara in amichevole a Pineto. Mancuso e Bruno sono KO per rispettivi infortuni. E poi, le parole dell'ex tecnico del Pescara, Ivo Iaconi. Si vede già l'impronta di Zeman. Il tecnico Giuliese dice che non bisogna avere l'assillo della promozione. In Serie B nessuno come il Boemo. E poi, per la Lega Pro, Varas lancia il Teramo pronto per questa sfida. Ecco l'ex Lumezzane. Piedi per Teramo. Vogliamo arrivare in alto. La gara di Coppa con il Rasinfondi, anticipata alle 18 di sabato. E per la Serie D, l'Aquila ingaggia il terzino Caffiero. Amenta va a Francavilla. Domani i gironi rischiano di slittare i calendari. E poi, per il basket, Ogid, Roseto. Arrivo nel momento giusto. Ecco il nuovo totem degli Sharks. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione. Spero di fare bene, dice Andy Ogid. Trentenne alla pivot. Nuovo arrivo del Roseto. Siamo anche sul messaggero, rapidamente, per le due pagine dello Sport. Tifo Pescara e studio Zeman. Parla Pomante, ex capitano del Defino, oggi leader del Pineto, che stasera affronta i biancazzurri in Amichevole. Gente come Zampano e Gans in Serie B farà la differenza. Però mi hanno parato bene di Del Sole. Vedo un gruppo forte. Sul fronte Mercato. Benarissamp frenata. Si sblocca. Sul fronte delle entrate Pessina. E poi per il basket di Palantonio. Ogid darà esperienza a Roseto. Dal 2013 fa parte della nazionale nigeriana. I tifosi Curva Nord hanno criticato la società. E infine per la Lega Pro. Varas, Teramo. Ho voglia di riscatto. Tifosi violenti. Sei da Aspo. Sul fronte epurati. Dopo Sales potrebbe rientrare Barbuti. Eccolo qui Simone Sales alla ripresa degli allenamenti. A fianco al portiere Calore. Noi ci fermiamo qui con questa edizione odierna di Mattino 6. Ma vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 alle ore 14, alle 19, alle 23. E poi questa sera alle 21. Il consueto appuntamento con il mondo delle due ruote. Con la trasmissione Velo condotta da Jacopo Forcella. Con Luciano Rabottini. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia. Grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.